Musica Ciao a tutti, lui è lui E lei è Sofì E benvenuti in questo nuovo vlog Vi portiamo con noi in Calabria Che stiamo andando a fare un incontro E trascorreremo insieme 24 ore Per ora siamo in macchina C'è un tempo bellissimo Adesso un po' di musica immagini A dopo Piove, piove Piove Tutti i cavalli Ho rotto il telefono Io sono saluta sopra il telefono Ok, è vivo È vivo Adesso siamo al porto di Messina Per andare dove? Per andare in Spagna No, per andare In Calabria E quelli là dietro sono i traietti Però non si vede niente Ci sono aerei I treni Biciclette Dai Devo fare pipì La scala più ripida del mondo No, per ora è vero Alla cosa Di me Alla cosa 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 E' stato incredibile Come stai? Mi sentivo all'acquapark Non riuscivo a fermarmi, tu ridevi? E no, io lo ridevo, io lo fermo e facevo Comunque tutto bene? Sì, fortunatamente Yeah, questo è l'importante Siamo appena arrivati Stiamo incontrando alcuni di voi Tutti hanno il palloncino Io no, mi hanno dato solo la barchetta senza palloncino Adesso siamo qui negli uffici Abbiamo già qualche vostro regalino Finalmente ci siamo Qui contro te Ah no Allora Allora 3, 2, 1, vado a chiuso! Spera finito, lo spettacolo ragazzi è stato divertentissimo, siete stati fantastici, quello è il pacco con tutti i vostri regali, sembra piccolo, in realtà è gigante, guardate la mia mano, casa dolce casa, adesso siamo veramente nella nostra casetta, l'albergo 3, 0, 8, di qua! E che c'è ca... yeh... Umandi Letti, che bello 3 Letti!!! Huuh abbiamo pure... spegni la luce! Vieni qua facciamo il nostro brindisi, si sta potendo il bagno la bottiglia.. Avanti facciamo un brindisi... Are you ready? Luigi attento non mi colpirà Per favore Yeah quante bollicine Cin cin Finalmente a cena si mangia Tieni Sofì E' specialmente il mio regalo Abbiamo scherzato ma adesso arriva il pezzo forte Le pizze più strane del mondo Il momento più bello che Sofì aspetta da una giornata intera Il dolce Ti ricordi che oggi sei caduta? Mangia per dimenticare Combatti Siamo di nuovo in stanza Siamo stanchissimi A domani mattina Che voi non lo tenete perché se ci sarà un taglio E sarà già mattina Buongiorno Siamo a fare già colazione Sveglissimi Si mangia sempre Che bello Siamo tornati nella nave E qua ci sono gli scalini di Sofì Stavolta è una scala migliore E' meno orribile Mi ho preso un'altra scala Perché quello è cattivo Stavo cadendo io però Adesso vi faccio vedere come si passa il tempo in macchina Cambiando i lacci delle scarpe Piccolo problema tecnico Si è scaricata la batteria E quindi il vlog si conclude qua Esatto Ti dispiace tantissimo Però già era no Nella via di ritorno Quindi non mi siete persi Gran chiaro Speriamo che questa volta Ti sia riuscito a stapparvi un sorriso Vi mandiamo un bacione Un abbraccio Nel prossimo video Ciao Ah e comunque un po' mi sono ripresa Non mi fa più male niente